paolo buonolis lascia canali 5 dopo gli attriti che lucio presta avrebbe avuto con la media set è questo quello che i più si chiedono questo quello che i più si vanno a domandare in pratica detto in due parole streaming site ci sarebbero stati degli attriti tra la media set e lucio presta e di conseguenza il buon paolo buonolis potrebbe eventualmente lasciare la media set potrebbe eventualmente lasciare canali 5 punto interrogativo non si sa la domanda però resta rimane permane aperta la domanda però permane resta diciamo così lì dove si trova la risposta io penso che non si riesca però a trovare ad individuare anche perché siamo ancora in una fase azzardo a dire embrionare non si può sapere anche perché gli attriti però da come si legge sul web ci sarebbero stati il video termina qua un saluto da leandro narratore italiano grazie a tutti grazie a tutti